buongiorno a tutti allora proseguiamo proseguiamo il tour de force del gigiune con il riepilogone del campionato francese campionato francese scusate il bronco di riace che rompe sempre i testi giunto anche lui alla terza giornata quindi prima di raccontarvi come sono andate le cose quasi segna si va avanti a segnare che è un piacere mi fanno godere come un riccio con tutti questi goal comunque ci vuole la maglietta con rituale della felicità eccola qua sembra la pubblica eccolo qua tutto 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 magliettina del rituale della felicità poi mi farete sapere se si vede bene non si vede bene se devo avvicinarmi di più eccetera 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 comunque bando alle ciance ciancio alle bande andiamo a vedere come è andata questa terza giornata del campionato francese dove un nantes mai d'uomo pareggia 3 a 3 col monaco in casa con una sequenza abbastanza incredibile perché passa in vantaggio il nantes al quinto minuto pareggia al monaco al ventisettesimo anzi ban sul 20 lant poi accorcia le distanze il monaco poi non si porta addirittura sul 3 a 1 al 48esimo poi al 58esimo il monaco accorcia le distanze poi pareggia all'ottantacinquesimo non ci sono state espulsioni fortunatamente ma la cosa buffa è guardare la statistica il nantes ha tirato tre volte in porta e tre volte ha centrato la porta cioè tre tiri tre gol il monaco ha tirato 27 volte in porta 10 hanno centrato lo specchio della porta e ha segnato solo tre gol quindi come vedete il calcio non conta niente non conta quante volte tiri quando devi fare gol punto e basta è l'unica regola giusta da applicare fare gol proseguiamo con l'olimpia in marsiglia che ha regolato 2 a 0 il brest il pari san germain finalmente vince una gara e la vince tra l'altro in maniera direi abbastanza bene contro la diretta concorrente lens una vittoria dal bidine 3 a 1 tra l'altro erano sul 2 a 0 all'ottantottesimo giù di lì e poi sono usciti altri due gol perché al novantesimo c'è stato il terzo gol del pari san germain che si è portato sul 3 a 0 e poi al 90 più 5 guilavogui ha segnato il gol della bandiera per il lens da notare gli marcatori del pari san germain assenzio e doppietta di mbappé ma proseguiamo proseguiamo perché dopo la gara tra appunto pari san germain e lens c'è stata la sorpresione le renne hanno pareggiato 2 a 2 con il neopromosso le havre nonostante siano riusciti a passare il vantaggio dopo 24 minuti erano avanti 2 a 0 alla fine più o meno il primo tempo ha accorciato le distanze le havre e al settantesimo nonostante sia rimasto in 10 al 62esimo è riuscito a trovare il gol del pareggio e a tenerlo fino a fine partita giocando appunto con un uomo in meno quindi ottima prestazione del delle havre o se preferite pessima prestazione delle renne del renne proseguiamo con la vittoria di misura della neopromossa mezzi in casa del clermont e questa è una vittoria pesante perché l'anno scorso il clermont è stato sempre abbastanza lontano dalle zone a pericolo salvezza eccetera eccetera e invece stavolta mi perde contro una neopromossa tra l'altro in casa il resto in strasburgo come un po anche l'olip in marsiglia gestiscono molto bene il tolosa a loro piacimento e vincono a 2 a 0 il resto in strasburgo il montpellier perde in casa 3 a 1 con lo stad reims e poi ragazzi miei c'è la sorpresa all'orient come l'anno scorso che batte clamorosamente 4 a 1 il lilla e 4 a 1 il risultato che comincia a essere pesantuccio da subire ma mai come lo squallido noioso 0 a 0 tra nizia e liona ecco non hanno fatto un pareggio non hanno fatto uno 0 a 0 no devono farlo loro lo 0 a 0 lo 0 a 0 malefico poi magari è stata una bella partita che se ne da una parte dall'altra contro quello che volete ma se io non vedo i gol io soffro soffro tanto 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 comunque ragazzoli 6 8 12 16 17 19 23 28 gol in dove partite media di superiore ai tre gol a partita tre virgola qualche cosa libidile andiamo a vedere visto che siamo arrivati alla terza giornata del campionato quindi la classifica si fa interessante la classifica della league non liga league league one il monaco e l'olimpi in marsiglia sono al comando con sette punti seguiti a una lunghezza da reims brest e res in strasburgo a cinque punti troviamo il renne il orient e il paris saint germain clamorosamente ottavo da notare il paris saint germain zitto zitto e lì all'ottavo posto ragazzi miei così è se vi pare stavo un attimo vedendo i gol fatti subiti del paris saint germain ma va bene lasciamo perdere non ci interessa più di tanto stavo vedendo la classifica vediamo eravamo arrivati a al pari saint germain con cinque punti in ottava posizione a pari merito con rene strasburgo e a quattro punti troviamo montpellier lilla tolosa e metz a tre punti il nizza a due punti il leavre e poi con un solo punto in zona pericolo lens nant e lione e ancora fermo a zero punti dopo tre giornate troviamo il clermont che se fossi in loro un po di ansiolina preoccupazione eccetera ce l'avrei perché comunque clermont come vi dicevo l'anno scorso non è che ha fatto un pessimo campionato eccetera non mi sembra che le squadre che gli sono davanti siano così superiori al clermont però il campo ha dato il suo responso il campo non sbaglia mai sono gli altri che sbagliano e poi danno la colpa al campo come quelli che tirano prendono il piccione e fanno finta di guardare il terreno come a dire no ma c'era la zolla messa male ho preso dentro una zolla e quando non poi magari il campo è sintetico e di di luguarani così è sintetico non è che è ben levigato eccetera non so come ha fatto a sbagliare lei va bene sorvogliamo sugli errori di sulle spedizioni per marte di certi palloni che dovrebbero finire nel set e invece finiscono sulla luna vi ho fatto la classifica anche nel campionato francese per vedere un attimino come erano messi fatto la battuta e devo dire che c'è grande equilibrio anche nel campionato francese ripeto finché qualcuno non fa il filotto ti azzecca otto risultati di file fa per dire sette vittorie un pareggio come è successo all'inter di del buon conte dopo che siamo usciti dalla dalla champions come dei curucù non è successo nulla di ecretante durante l'inverno ma eravamo rintanati come formiche e quindi va bene raga soli mi sono dilungato troppo sono cose che a voi non interessano mi interessa di più sapere il campionato spagnolo e francese come era messo gli ho dato tutte le delucidazioni del caso non chiedetemi come è andata la schedina e la bolletta del gigione eccetera anzi le schedine del gigione perché sinceramente le ho fatte che mi piace di più sapete farle direttamente avere davanti la batter le eventuali classifiche del campionato eccetera eccetera e buttarvi lì dei pronostici dal libido ma che non è che hanno la certezza matematica di uscire però detto questo monaco e olimpi in marsiglia comandano il campionato francese incredibile ma vero però attenzione perché il pari san germain dopo la vittoria sul monza tac tac si è portato a due lunghezze dalla copia di testa e settimana prossima c'è un roma milan da unulato vi dico solo quello da unulato e da grande libidice house